Buona giornata! Quanto e come nella nostra vita ci siamo sentiti anche questa parola, ben detto, hai detto bene. Quanto e come in questa giornata possiamo arrivare a dire ben fatto? Forse tradurre i nostri ben detto in ben fatto e allora cambia l'orizzonte perché mettiamo in atto concreto, in pratica, forse quello che è vero, è una cosa buona, ma alla fine l'opera della cosa buona diventa l'occasione per dare frutto e nel frutto ci sono quei semi che poi altrettanto si avranno e si sprigioneranno per fare altre cose buone. Allora che questa giornata alla fine possa dirsi ben fatto. Buona giornata! Il Signore ti benedica!